Ale, secondo te come sarà l'annata? Hai detto come sarà la vendemmia? Un'ottima annata. E perché? Perché è piovuto nei momenti giusti, c'è stato il sole nei momenti giusti, è fatto caldo nel momento giusto. Quindi se non viene anche la grandine, oppure altri piccoli minor virus, abbiamo messo una grande annata. E quando è che finiamo la vendemmia? Dovremmo iniziare ora con i bianchi, con i rossi, con il Syrah, il Montemuncialo e poi il San Giovese per l'ultimo. Quindi io penso un'altra due settimane. Ok, e prevedi un vino? Che tipo di vino prevedi quest'anno? È un grande vino. Bene. Grande vino. Perfetto. Io vorrei sbagliare, per quello chiedi a tutti quanti di tenere le dita incrociate. A chi lo chiediamo? Gli amici? Sì. Gli amici di Montedelli? Tenete le dita incrociate per noi perché le condizioni sembrano ottime, però essendo noi biologici sapete che non possiamo spruzzare. Quindi se viene un po' di... la grandine piuttosto che qualche virus ci rovinerebbe. Un po' tutto. Quindi tenete le dita e incrociate per noi. Lo metti in forma di... Ok. Ah bene. E ci diano un aiuto energetico anche loro. Ok ok, questa è carina, sì.